52.754 detenuti, di cui 17.207 stranieri e 2.210 donne. Sono questi i dati, aggiornati al 30 giugno scorso, e relativi alla condizione delle carceri in tutta Italia. Argomento che è stato affrontato questa mattina presso la casa circondariale Ugo Caridi di Siano, in occasione della visita del segretario regionale del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, Damiano Bellucci. La problematica più rilevante è quella della carenza del personale di Polizia Penitenziaria nella regione Calabria. Noi in Calabria abbiamo un organico che è stato stabilito nel 2013 di 1.478 unità, che purtroppo non sono assolutamente sufficienti a garantire la sicurezza nei 12 istituti penitenziari presenti in regione. Ai microfoni il sindacalista ha denunciato una situazione assai disastrosa, che va ben oltre il tanto discusso problema del sovraffollamento delle celle, per cui a livello nazionale ci sono circa 3.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Ai poliziotti penitenziari mancano fondi e sono stati bloccati i contratti, con la conseguenza che il personale scarseggia e i mezzi con cui questi sono costretti ad operare sono pochi e obsoleti. La situazione bisogna dire che è migliorata negli ultimi tempi a seguito dei provvedimenti adottati dal governo e dal Parlamento. I detenuti sono diminuiti, ma restano alte alcune criticità, che ripeto sono soprattutto legate alla mancanza di personale e anche alla mancanza di risorse economiche per tutte le attività. Per quanto riguarda la polizia penitenziaria, questa mancanza di risorse si ripercuote soprattutto sul servizio di trasferimento dei detenuti, perché abbiamo automezzi fatiscenti, vecchi, che hanno percorso tantissimi chilometri e che dovrebbero essere sostituiti.